San Carlo Borromeo Vescovo 4 novembre Quella che oggi ci giunge dalla pagina del calendario, è la voce di uno dei più grandi Vescovi nella storia della Chiesa. Grande nella carità, grande nella dottrina, grande nell'apostolato, ma grande soprattutto nella pietà e nella devozione. Le anime, dice questa voce, la voce di San Carlo Borromeo, si conquistano con le ginocchia. Si conquistano cioè con la preghiera, e preghiera umile. San Carlo Borromeo fu uno dei maggiori conquistatori di anime di tutti i tempi. Era nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, padroni e signori del Lago Maggiore e delle terre rivierasche. Era il secondo figlio del conte Giberto e quindi, secondo l'uso delle famiglie nobiliari, fu tulsurato a 12 anni. Il giovane prese la cosa sul serio. Studente a Pavia, dette subito prova delle sue doti intellettuali. Chiamato a Roma, venne creato cardinale a sole 22 anni. Gli onori e le prebende piovvero abbondanti sul suo cappello cardinalizio, poiché il papa Pio Ivi era suo zio. Amante dello studio, fondò a Roma un'accademia secondo l'uso del tempo, detta delle notti vaticane. Inviato al concilio di Trento vi fu, secondo la relazione di un ambasciatore, più esecutore di ordini che consigliere. Ma si rivelò anche un lavoratore formidabile, un vero forzato della penna e della carta. Nel 1562, morto il fratello Maggiore, avrebbe potuto chiedere la secolarizzazione, per mettersi a capo della famiglia. Restò invece nello stato ecclesiastico, e fu consacrato vescovo nel 1563, a 25 anni. Entrò trionfalmente a Milano, destinata ad essere il campo della sua attività apostolica. La sua arcidiocesi era vasta come un regno, stendendosi su terre lombarde, venete, genovesi e svizzere. Il giovane vescovo la visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Profuse, inoltre, a piene mani, le ricchezze di famiglia in favore dei poveri. Nello stesso tempo, difese i diritti della Chiesa contro i signorotti e i potenti. Riportò l'ordine e la disciplina nei conventi, con un tale rigore da buscarsi un colpo d'archibugio, sparato da un frate indegno, mentre pregava nella sua cappella. La palla non lo colpì, e il foro sulla cappamagna cardinalizia fu la più bella decorazione dell'arcivescovo di Milano. Durante la terribile peste del 1576 quella stessa cappa divenne coperta dei miti, assistiti personalmente dal cardinale arcivescovo. La sua attività apparve prodigiosa, come organizzatore e ispiratore di confraternite religiose, di opere pie, di istituti benefici. Milano, durante il suo episcopato, rifulse su tutte le altre città italiane. Da Roma, i santi della riforma cattolica guardavano ammirati e consolati al bormeo, modello di tutti i vescovi. Ma per quanto robusta, la sua fibra era sottoposta a una fatica troppo grave. Bruciato dalla febbre, continuò le sue visite pastorali, senza mangiare, senza dormire, pregando e insegnando.